Quindi in questo senso, fino ad adesso, è un dire, guardate, noi il true crime lo guardiamo, ci piace vederlo, ci piace avere a che fare con questo genere di cose, perché in un certo senso esorcizziamo il male proiettandolo fuori di noi, che è una cosa che ci sta. E come, diciamo, faccio adesso un parallelo un po' così, però come Aristotele diceva, noi guardiamo le tragedie non tanto perché siano belle, carine, ci intrattengono, ma perché noi le emozioni che vediamo rappresentate all'interno delle tragedie le esperiamo in quel momento mentre le vediamo su di noi e ci purifichiamo di quelle stesse emozioni. Perché è bello andare a vedere una tragedia in cui vengono ammazzati tutti quanti, in cui si soffre? Per quale motivo è bello ascoltare una canzone che ti fa piangere? Perché tu ti senti purificato immedesimandoti in quelle emozioni? Questo è Aristotele, già. Scusami, quanto riguarda le cinematografie, mi ricordo di aver letto uno studio, mi sembra, che parlava del perché ci piacciono gli horror, ed è collegato sempre a questo, no? E la ragione starebbe appunto nel fatto che, nonostante inneschino in noi dei sentimenti di paura, il nostro cervello riconosce il fatto che questi sentimenti, queste emozioni, provengono dall'esterno, e che quindi sono finzione, che non c'è una barriera, lo schermo, che appunto delimita la realtà della finzione, quindi sappiamo che ciò che vediamo è finto, in qualche modo noi esperiamo la paura ma in una safe zone e questo rende godibile il sentimento della paura, della tensione al cinema di fronte a un horror. Quindi, insomma, il discorso sembra, no, essere tutto un po'... Ma è chiaro, ma perché se tu esperissi una paura vera, cioè la stessa paura che sta esperendo il protagonista di quel film, non ti piacerebbe andarla a vedere? Chiaramente. Tu esperisci una paura finta, che però ti collega, che ti viene offerta da quell'occasione là, e che in un certo senso è una paura addolcita, che ha all'in sé, è confortevole, anche un po' di piacere della visione, molto probabilmente. L'effetto lucifero. Lasciandoci alle spalle le ormai obsolete, ma pur sempre affascinanti teorie lombrosiane sulla localizzazione anatomica del crimine, la psicologia sociale si è sempre interessata di capire che ruolo abbia il contesto sociale in cui sono immerse le persone nell'influenzare il proprio comportamento. Nello specifico qua parla poi di Philip Zimbardo, che ha fatto questo esperimento nel carcere di Stanford nel 1971 in cui ha cercato di dimostrare che una persona poteva diventare o essere giudicata buona o cattiva in base al ruolo che quella persona ricopre oppure a tutti i fattori ambientali. Questo esperimento si svolse attribuendo ai volontari che avevano deciso di partecipare i ruoli di guardia e i ruoli di prigionieri. I prigionieri indostravano le tute con i numeri, le guardie e occhiali da sole che impedivano di vedere i loro occhi, così da creare un effetto di deindividuazione. Dopo pochissimo tempo il contesto a cui erano stati sottoposti i prigionieri e guardie ebbe risvolti drammatici. L'esperienza aveva sortito pesanti effetti psicologici sui prigionieri, che avevano manifestato un forte crollo emotivo e sulle guardie che avevano sviluppato una forte carica di violenza nei confronti dei detenuti. Zimbardo coniò così, Zimbardo molto probabilmente, coniò così l'espressione effetto lucifero per definire il meccanismo psicologico per cui il contesto influenza il livello di aggressività. Questo esperimento, naturalmente siccome tutti e la maggior parte degli esperimenti psicologici è basato sotto molti punti di vista, è soprattutto pregiudizievole, ci fa riflettere sulla sottile linea rossa che separa il bene dal male. Ma questa è la parte più interessante. In una visione in genere del crimine talvolta si ha la percezione che un atto criminale possa essere compiuto solo da persone con caratteristiche di personalità malevole, cattive, e che i buoni dimorino altrove, proprio in conseguenza di caratteristiche intrinseche opposte. C'è la famosa questione del fatto che il male è effettivamente un qualcosa che esiste in sé. Una persona può essere malvagia indipendentemente da quelle che sono le sue condizioni, le condizioni sociali da cui proviene, le condizioni ambientali da cui proviene, alcuni risvolti traumatici magari che ha subito quando era ragazzino, eccetera. È una domanda interessante secondo me, che però difficilmente trovo risposta, ma io non lo so, ti dico la verità. Io, questo male radicale che esiste in quanto male, non credo che esista effettivamente. Che ci siano persone che siano malvagie e basta. No, nemmeno io tendo... Penso che ci sia dietro la malvagità, intesa in questa maniera efferata. Poi c'erano le persone che sono magari cattive, ok? Che godono nel prevaricare, eccetera. Ma il male, inteso così, in questo modo di efferatezza, di violenza... Sì, quasi di possessione. Eh sì, in quel senso non so, io non penso che esista il male radicale. Ma anche su quello caratteriale, alla fine il male caratteriale è comunque un qualcosa... Certo, sicuramente ognuno di noi c'è un'individualità che è unica, e magari esce fuori al di là del contesto in cui siamo cresciuti o in cui operiamo e tutto quanto. Però è altamente influenzabile dall'esteriorità, dalla famiglia, da determinati valori, dalle esperienze. Quindi, non lo so, mi sembra più un qualcosa di costruito. Sì, 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 ma io credo che possa essere anche, evidentemente, no? Poi i profili psicologici magari dei killer lo chiariscono meglio, questo aspetto. Cioè, è evidente che molti hanno, si comportano in determinati modi perché provengono da una storia personale che evidentemente li ha segnati e che probabilmente ha avuto anche dei risvolti su quelli che sono i loro comportamenti. Ma così che una persona nasca malvagia e cattiva, senza un sostrato, diciamo, psicologico sotto, non lo vedo molto possibile. Il bene e il male l'abbiamo distinto noi umani in quanto società. Certo, certo, ma molto... Cioè, su questa cosa delle convenzioni sono molto d'accordo. Dice Minni che in chat abbiamo distinto questo bene dal male in maniera convenzionale. Però io penso che il bene e il male noi ce l'abbiamo presente in base a un ideale, mettiamola così, di convivenza tra persone che vediamo come, non lo so, possibile o meglio auspicabile. E in base a quello giudichiamo una cosa bene o male, un'azione buona o cattiva. Quindi se noi pensiamo a un ideale di società in cui, che ne so, se io vedo una persona che ha delle difficoltà, devo mostrare solidarietà verso quella persona, allora se io lo faccio sono bravo, se non lo faccio sono cattivo. Molto, a livello molto pragmatico, vi dico. Poi ci sono tante altre cose che si potrebbero dire. Thanos è nato cattivo? No, Thanos è soltanto uno che voleva risolvere il problema dell'universo schioccando le dita e eliminando a caso così le persone, ma cattivo. È un altro modo per raggiungere una... Alla fine lui, ragazzi, voleva andare soltanto a zappare la terra là su quel pianetello dove è andato. Ma faccio il ragionamento, cioè lui elimina le persone e poi va a farsi l'orto. Perché? Perché voleva... Era, diciamo, preoccupato per la questione agricoltura che evidentemente... Agricoltura intensiva, insostenibile, sfruttamento del terreno. Lui voleva solo... Cioè, se non sbaglio, l'hanno visto anche nella protesta con i trattori. Ci tiene alla questione. Giustamente è legato a tutto quanto, quindi grande rispetto verso la natura. A volte l'amore ti uccide, nel senso un amore così profondo, legato alle radici della terra, che l'ho portato a sbarellare. Quante volte sentiamo nelle interviste su efferati delitti, la risposta era un ragazzo tranquillo. È proprio questa discrasia fra abominevoli violenze e acque chete di volti rassicuranti, a volte noti, che porta l'uomo comune a voler indagare sul mistero spesso celato dietro la maschera della normalità. L'idea di metterci nei panni del criminale di turno serve a proiettarci, per la durata di qualche episodio, in una realtà maligna e parallela in cui la nostra natura darebbe sfogo al proprio lato scuro, nella perversa gratificazione di compiere indicibili violenze, senza però pagarne il prezzo. Il misfatto sarebbe pure cinematografico, dunque a riparo da conseguenze reali, e tutto ciò è indubbiamente rassicurante. Ora io non sono molto d'accordo con quello che viene detto in questo articolo, in questa parte soprattutto, però andiamo avanti. O magari il terrorizzante sospetto che potremmo condividere somiglianze caratteriali con l'assassino ci annichilisce al punto tale da farci preferire l'esperienza di una tranquilla poltrona di casa da cui, severi, osserviamo e giudiciamo il male altrui. Altre volte sentiamo fin da subito invece la pietas che ci fa risuonare con quegli aspetti di vulnerabilità tipici della parte lesa, in cui si è coscienti che nel tiro a dadi del caso gli altri potremmo essere noi. Questo mi sembra molto raro. Sì, c'è questa cosa della identificazione, a me mi puzza un po', non ci credo molto. Vabbè, possiamo fermarci un attimo sui paragrafini, dai, così. Sì, qui in questa parte, cioè lei insiste molto sulla questione dell'identificazione fra tutti gli attori della scena, se è per attori no, ma ci inseriamo anche noi che stiamo guardando, poi il criminale è la vittima. Però io non so se la chat ha un'opinione diversa, ma io non la vedo, non credo che sia proprio questo, il senso. Cioè per me è molto più complesso, dico sì, secondo me, e sta in quella roba lì. Alla fine noi guardiamo a queste cose come se fossero delle storie, no, lontane da noi, dei misteri, mettiamoli in questo caso, quando sono dei misteri, o comunque delle cose che non ci riguardano in maniera diretta. Naturalmente se assistessimo a un delitto, non staremmo là a cercare di identificarci col carnefice e con la vittima, mi affascinano perché sono delle storie, e perché le storie affascinano? Le storie affascinano appunto non tanto perché ti identifichi nelle storie, perché io posso leggere un meraviglioso romanzo, magari un Madame Bovary, e non necessariamente identificarmi nella protagonista, ma questo non vieta che mi piaccia lo stesso. Credo che sia un sentimento condiviso da tutti. Se poi dobbiamo identificarci per forza nelle storie che stiamo guardando, allora ok, capisco anche l'ultimo periodo storico nel quale stiamo vivendo, che ormai se le cose che guardiamo non ci somigliano fisicamente come gusti sessuali, non le possiamo guardare, è evidente, perché non siamo capaci, e quindi per forza ci deve essere biancaneve di colore, o i nani che non sono veramente nani, e quindi dobbiamo fare tutto, ci deve somigliare, se no non siamo capaci assolutamente di capire niente. In realtà, semplicemente le storie funzionano e le storie ci piacciono perché, come diceva e ripeto Aristotele nel 400 avanti Cristo, noi non tanto esperiamo la situazione in sé che sta vivendo quel personaggio, né ci identifichiamo nel personaggio, ma proviamo su noi stessi quelle stesse cose, in maniera diversa naturalmente, in maniera cose che vengono riprodotte al nostro interno, quindi non sono reali ma anche se finte, che ci permettono di fare esperienza senza subire gli stessi danni, le stesse conseguenze, di chi quell'esperienza la fa in maniera diretta. Ma non per questo io mi identifico nel personaggio che prova paura, o nel personaggio che prova piacere nell'uccidere, semplicemente magari io guardando la serie True Crime, io mi sono affascinato dall'ingegno che l'uomo, il rispettore, l'adipo, l'ispettore gadget, l'ispettore di polizia, il commissario di polizia deve mettere in atto per riuscire a risolvere a dipanare la matassa, o sono affascinato da quelli che potrebbero essere gli aspetti psicologici del killer, ma di certo non mi identifico nella vittima, non cerco di dire che, non penso che io darei in qualche maniera, in una maniera safe, do sfogo al mio lato oscuro guardando una serie True Crime o affascinandomi alla cronaca nera. Io su questo invece non so, non sono molto convinto, perché c'è un lato di noi che gode, essendo testimoni di determinate scene, cioè di determinati fatti, no? Ad esempio mi viene sempre il meccanismo in mente, il meccanismo per cui quando c'è un incidente, o quando c'è una rissa, noi non riesciamo a staccarci da lì, cioè ce ne andiamo perché dobbiamo a un certo punto, perché magari diventa pericoloso, però noi rimaniamo incollati là, cioè vorremmo rimanere incollati là con un drone a osservare tutta la scena dall'inizio alla fine, perché secondo me c'è una parte di noi che in quella rissa vede un pugno che dici, caspita, mi piace. Per me può esserci anche questa parte di sfogo, diciamo safe, di determinate nostre emozioni, è un rapporto sessuale protetto, cioè rimane solo il piacere, il resto è tutto fuori. Quindi per me c'è questa componente, non sono convinto che non ci sia, perché a volte veramente rimaniamo imbambolati e affamati di fronte a certe immagini certe storie. Ma io non lo so, cioè, allora, forse il true crime inteso in questo senso come racconto di storie vere, no? Esatto, è curiosità di sapere cosa accade. Non è curiosità, ragazzi. Quando scoppia una rissa, non è la curiosità. Tu rimani quasi dispiaciuto perché viene fermata. Tu vuoi che le cose vadano a fondo, vuoi che succeda il casino. Cioè c'è quella parte di te che lo vuole. Ed è chiaro che è una parte che tutti abbiamo, che tutti condividiamo e che tutti controlliamo. Però c'è questa parte famelica. Non lo so, non lo so. Io non sono totalmente d'accordo. Può valere per la rissa sta cosa, permettimi, però quando si parla di omicidi, di serie su omicidi, di killer, eccetera, sono due cose secondo me profondamente diverse. Anche lo spettacolo dei radiatori era visto dalle persone. Ma quello è la violenza, no? Che attira. Ok? E la questione invece qui che viene proposta, no? Spesso della vittima, del carnefice, la questione che dice qui la psicoterapeuta che ha scritto questo articolo è che noi ci identifichiamo sia nella vittima che nel carnefice. Ma io non vedo questa identificazione, per questo dico non sono totalmente d'accordo. Anche là lo sport, come dice Minniken, box, MMA, MMA, no? È complicato lì. Là c'è la questione della violenza. La box è una cosa diversa dalla MMA, che è un pochino più complicato come discorso da affrontare perché riguarda tutti gli sport di combattimento. Sono contesti controllati, indirizzati, quindi è diverso, certo. Però c'era quella parte in cui, quella piccola in cui diceva che l'immedesimazione caratteriale, cioè vedere delle somiglianze caratteriali renderebbe più affascinante tutto quanto. Io non sono per niente d'accordo. Cioè, almeno personalmente, se dovessi vedere delle, sì, delle somiglianze caratteriali o dei pattern andrei in panico. No, lei qua sta dicendo che tu praticamente a un certo punto ti accorgi che hai delle somiglianze caratteriali con l'assassino, ti spaventi di questa cosa e allora tu guardi quel male da lontano attraverso la TV. Ah, per osservarti. Per osservare e giudicare il male altrui che però inconsciamente tu sai che ti appartiene un po' in misura minore. Esoscizzarlo da te, diciamo. In misura minore, in misura minore. Che non è, non è... Su questo sono d'accordo. Malvagio come, come, come visione. Però andiamo avanti. E così, come nelle indagini legate a qualunque misfatto, anche il true crime pone il pubblico di fronte all'ossessione di dare una risposta ai 5WN1H, ovvero indagare sul quando, dove, che cosa, chi, perché, e sul come di un crimine. Il più delle volte è molto difficile non simpatizzare con il carattere deciso e ben connotato del cattivo del cinico di turno. Alter ego di noi stelespettatori anche qui sta roba. Io non la comprendo, non la capisco. Forse stanchi di ipocriti perbenismi politically correct di molte serie televisive. Non lo so. Forse siamo anestetizzati dalla violenza dei fatti di cronaca con cui quotidianamente veniamo bombardati e allo stesso tempo bramiamo qualche goccia di emozione forte in più. Già, perché se davanti a crime c'è l'argentivo true, ecco che il brivido si tinge subito del nero più cupo. Allora, qui c'è sempre la questione che non mi fa molto giù della identificazione, no? Del fatto che noi telespettatori siamo gli altere, o meglio, che il carnefice è l'alterego di noi spettatori. Esatto, sono d'accordo con quello che dice Francesco, c'è l'autrice, quindi quest'articolo sta romanzando il suo articolo su un prodotto romanzato. Cioè, qui sta facendo, sta arromanzato la figura dell'assassino, il carattere deciso, il cinico del cattivo, che non è che è sempre così, eh? Cioè, io quando vedevo, perché parliamo di true crime, quindi quando ho visto le serie su Pacciani, tutto mi appariva Pacciani tranne che il cinico è deciso, voglio dire, non mi sembrava, no? C'era qualcos'altro che ti affascinava, non tanto nella sua, nella sua figura, ma nel contesto, no? Che si va a creare e nel, diciamo, nel come vengono messe in atte certi stratagemmi che partono da una psicologia profondamente sbagliata, più la visione psicologica quasi dell'assassino che ti incuriosisce. Perché ha fatto quelle cose? Perché, anzi, al contrario dell'identificazione, perché è così tanto diverso da me da poter pensare e poter arrivare a fare quelle cose? C'è anche un'esplorazione, no? E certo, esplori i territori che sono, per te non esistono. Fai esplorare al soggetto, al protagonista della triste vicenda questi territori e tu ovviamente sei curioso perché tu, perché siamo chiamati, insomma, ad essere persone buone anche dentro di noi, non solo dalla società magari. Quindi è chiaro, sono territori nuovi e c'è sempre un po' di curiosità, sicuramente. E ci aggiungiamo anche il fatto che in tutte le storie, nella storia della storia della storia dell'uomo, il cattivo è sempre stato quello più affascinante per costruzione, magari ci siamo arrivati, la tradizione del romanzare il cattivo nel dargli sempre uno spessore in più rispetto al buono, no? Il buono è scemo, è sempliciotto, il cattivo è sempre più dettagliato, più opaco. E quindi ci arriviamo anche con una forse tradizione di narrazione degli eventi. Sì, ma la questione, cioè, a me sembra semplicistico ridurla al fatto, perché qui l'articolo è finito, adesso ci sarà qualche, qualche altra cosetta, ma quello che emerge dal succo di questa roba è l'identificazione. Io credo che quando tutti abbiamo letto un romanzo in cui ci sta, come dicevi, no? Un cattivo e ci sta il protagonista, magari che è un buono, abbiamo visto una serie tv di questo tipo, eccetera. Ma quel fascino che esercita il cattivo non lo esercita tanto per le azioni che compi e ferate, perché, oppure perché è cinico, ma perché effettivamente rappresenta quel territorio inesplorato, no? Che è esotico rispetto a quello che la maggior parte di noi è, che ti fa dire, guarda che cosa c'è fuori dalla mia personalità, magari. Poi è normale, ci possono essere anche delle caratteristiche in un romanzo complesso di un cattivo, di un antagonista che tu ritrovi in te stesso. Sì, sembra come lo dici, no? Sembra il contrario dell'immedesimazione, sembra. Siccome appunto c'è un'altra persona che esplora per noi territori che noi magari siamo solo curiosi di guardare, non di esplorare. Sembra proprio il contrario dell'immedesimazione. Sembra un dualismo proprio netto. Ci sono io e ci sei tu che vai lì per la curiosità di tutti, ma io non sono te. Eh sì, è come utilizzare quel personaggio che ha delle caratteristiche. Sfrutti quel personaggio per indagare degli aspetti che magari non potresti mai andare ad indagare nella realtà e quindi per conoscerti anche tu meglio. Ma il fatto che tu ti conosca meglio grazie a un personaggio che è totalmente diverso da te non significa che tu ti identifichi in quel personaggio. Magari, come sostengono le neuroscienze, quel brivido di adrenalina che accende il circuito del piacere fatta di paura e curiosità, eccitazione e orrore, diventa come nel giocatore d'azzardo ciò che tiene alta la soglia di attenzione dei più accaniti fruitori del genere true crime, sempre più in ascesa. Un prodotto accattivante, accattivante dei canali multimediali, che offre la possibilità agli spettatori di calarsi a turno nei panni di un dualismo vittima carnefide, eccetera, per fare ritorno al quesito dei quesiti. Chi sono io? Qui secondo me alla fine, poi è smesso perché doveva andare a cena probabilmente l'autrice, aveva quasi raggiunto e colto il punto essenziale della questione, no? Che però non si raggiunge solamente tramite una identificazione col personaggio, no? Anche il sentirmi totalmente diverso da quel personaggio mi permette di conoscermi, non ho bisogno di identificarmi. Tutta sta roba del fatto che noi guardiamo il true crime perché ci identifichiamo, no? I nostri, alcuni nostri aspetti si identificano, ma io non credo. Io credo che il true crime funziona come funzionano tutte le storie. Perché ci piacciono le storie d'amore? Perché ci piacciono i romanzi rosa? Perché ci piace questo? Perché ci piace questo? Perché ci piace questo? Perché sono storie, le storie sono fatte, hanno quella caratteristica lì e se ce le raccontiamo davanti a un fuoco da quando eravamo quasi scimmie, appena scese dagli alberi, ci sarà un motivo. Sicuramente ci proiettiamo in determinate idee, in determinate storie, appunto magari in un determinato momento della tua vita in cui tu senti una determinata mancanza di un qualche elemento, lo ricerchi per come puoi. Sicuramente c'è questa cosa. Come ci può essere il... non ci dobbiamo identificare dicendo io sono come il criminale, però immagino anche che ci possa essere il ragionamento opposto. Io non sono quella persona e mi rassereno, mi rassicuro. Però sai cosa? Questo elemento di ricerca, di conferme, di, come dire, scavare a fondo me stesso tramite Barbara D'Urso sul 5, durante queste storie, la narrazione di queste storie, non mi torna, non mi torna. No, effettivamente non avevo preso in considerazione questa. E che capisci, anche il luogo, la sede e tutto quanto. Là c'è un'attivazione di quella parte del nostro cervello che si eccita nell'avere di fronte dei percorsi tortuosi. Quella è dopamina e basta. Io ogni tanto penso che sia solo quello. Una storia accattivante, ogni informazione in più ci piace e ne vogliamo altre. A noi, secondo me, piace la questione di scoprire, della scoperta della verità. Quello è quasi un meccanismo primordiale, lo scoprire come sono fatte le cose, perché le cose funzionano in determinato modo, che cosa è successo in un determinato luogo. E questo, secondo me, riguarda anche questo genere di spettacoli.